Paolo Fonseca a Sky dopo Milan-Torino. Non mi aspettavo che noi potessimo essere perfetti adesso. Non abbiamo fatto buoni 45, squadra passiva difensivamente e senza intensità, anche col pallone. Il secondo tempo è stato diverso, abbiamo recuperato palla più avanti e siamo stati più aggressivi. Abbiamo avuto opportunità per vincerla, ma dobbiamo continuare a lavorare. Abbiamo una settimana in più per farli migliorare. Penso che han fatto bene quando sono entrati, con un'altra intensità. Abbiamo bisogno di fargli recuperare velocemente la forma fisica. No è un problema collettivo ma non solo dei difensori. Nel primo tempo non abbiamo avuto la capacità di pressare più avanti e non lasciare il Torino attaccare la porta. La squadra ha bisogno di migliorare difensivamente, ma nel complesso. Per me è una squadra più passiva, io la voglio più aggressiva. I primi 45 minuti abbiamo guardato questo, lasciando tempo e spazio al Torino per giocare la prima fase con calma. Non è una questione tecnica, è una questione di essere più attivo in questo momento. Rafa oggi per me difensivamente è stato un giocatore diverso, ha lavorato bene, ma deve stare sempre vicino alla porta con più decisione, deve essere più dinamico e attivo.